Due ori, tre argenti ed un bronzo. L'Italia del tennis tavolo può dormire sogni tranquilli. Il futuro è assicurato. Futuro che oggi guarda i campioni che verranno. Quelli usciti con il collo pieno di medaglie dagli internazionali di Zagabria. Il podio, croato, si tinge ad azzurro. Al primo posto la coppia Renzi-Arlia. In piazza d'onore la vibonese Miriam Carnovale e la collega Anastasia De Costanzo. E' un altro straordinario risultato per la baby atleta di Vibor, ma è punto fermo dalla nazionale. A Piscopio il suo paese è festa grande. La piccola frazione vibonese si conferma capitale del tennis tavolo italiano. Da quelle parti è cresciuto un certo Massimiliano Mondello, che con i suoi 34 titoli assoluti è stato il pongista italiano più titolato di tutti i tempi, collezionando oltre 300 presenze in maglia azzurra. A dare le prime dritte alla piccola Miriam è stato proprio lo stesso Mondello, uno dei primissimi a complimentarsi con lei dopo l'argento in Croazia. Alessio Bonpasso per la CNews24.